Ciao a tutti, oggi vi presentiamo la nuova Vodafone Internet Key 28.8 Mega Ready vediamo ora come procedere per l'utilizzo della WIC innanzitutto è necessario installare la SIM all'interno della Vodafone Internet Key in questo modo facciamo attenzione ad inserire la SIM nel verso corretto, quindi con il taglietto verso il basso se si possiede inoltre una memoria di espansione micro SD è possibile utilizzare la scheda come memoria esterna inserendola nell'apposito slot posto sotto l'alloggiamento della SIM vediamo ora come procedere all'installazione della Vodafone Internet Key sul Mac per prima cosa è necessario inserire la chiavetta nell'apposita porta USB la prima volta che si inserisce il modem verrà visualizzata l'icona di lancio dell'applicazione sul desktop fare doppio click nella finestra successiva lanciare l'installazione e seguire le istruzioni visualizzate a video dopo che il Mac si è riavviato nella cartella applicazioni è visibile il software Vodafone Mobile Connect fare doppio click sul programma per attivare la connessione quando si è connessi appare l'indicazione connesso accanto a una spia verde fare click sul pulsante disconnetti e la connessione si chiude per aprire una connessione mobile è necessario trovarsi all'interno della copertura della rete Vodafone grazie grazie